Ecco, ha cominciato la registrazione. Scusi, prof, ma non sono di nuovo, non c'è più che accedere. No, no, non si preoccupa. Abbiamo risolto. Io nel frattempo ho fatto un po' di contorno, insomma, non sono ancora entrato nel vivo della lezione. Quindi, per chi si sta mettendo in questo momento in ascolto, per quelli che la vedranno successivamente, abbiamo detto che in anatomia, così come in tutti i linguaggi scientifici, è necessario utilizzare una terminologia anatomica, una terminologia assolutamente precisa, riproducibile, che ci permette di distinguere ciascuna porzione del nostro corpo sia in posizione statica, il naso è sempre sopra la bocca, le orecchie sono ai lati del naso e così via, e sia in posizione dinamica, per esempio, durante la corsa, abbiamo detto, gli arti inferiori si trovano al di sotto rispetto alle spalle e alternativamente si spostano in avanti da un lato o dall'altro. Per far questo abbiamo necessità di utilizzare una posizione univoca per tutti i soggetti, si chiama posizione anatomica, convenzionale, universalmente riconosciuta, che rende possibile la descrizione del nostro corpo. La posizione è questa, il corpo umano è posto in stazione retta, con lo sguardo rivolto all'infinito, arti superiori leggermente divaricati rispetto all'asse del corpo, e le palme delle mani rivolte in avanti, con il primo dito posto all'esterno, e le piante dei piedi appoggiate al suolo, con le punte leggermente divaricate. Le palme delle mani rivolte in avanti, con il primo dito posto all'esterno, ma a sto punto vi crollano delle certezze che vengono dalla scuola elementare, però non si chiamano pollice, indice, media, nullare e migno, no, si chiamano primo dito, secondo, terzo, quarto e quinto dito. E anche le dita del piede, non si chiamano alluce, billice e cillice, ma si chiamano primo dito, secondo dito, terzo dito. Qual è la differenza in posizione anatomica tra la mano e il piede? Che nella mano il primo dito è posto all'esterno, nel piede il primo dito è posto all'interno. Siccome noi abbiamo già detto che per descrivere il corpo umano abbiamo necessità di avere dei punti di riferimento precisi, univoci, cosa facciamo? Prendiamo questo bellissimo disegno, questo bellissimo manichino, facciamo finta che sia perché deve essere tridimensionale, e come prima cosa lo iscriviamo dentro un solido geometrico del tipo dei parallelepipedi. Quindi cosa facciamo? vogliamo spedire questo manichino in un'altra città. Il trasportatore ci dice sì, però lo voglio trovare imballato. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo una scatola di cartone e la mettiamo dentro questa scatola. In questa scatola ci sarà quindi un lato destro, un lato sinistro, un lato anteriore, un lato posteriore, un lato superiore e un lato inferiore. Il parallelepipedo ha sei lati. Questi sei lati sono tra di loro a due a due paralleli, giusto? Il lato destro è parallelo al sinistro, il lato anteriore è parallelo al posteriore, il lato superiore è parallelo all'inferiore. Questa scatola in cui abbiamo inserito il corpo umano si chiama parallelepipedo di Van Lohen ed è questo. Qua è stato tolto uno spicchio, quindi il corpo umano è iscrivibile all'interno di questo parallelepipedo. È un parallelepipedo rettangolare in cui iscrive il corpo in posizione anatomica e rappresenta lo strumento ideale per descrivere lo spazio tridimensionale del nostro corpo. In qualunque parallelepipedo rettangolare, come abbiamo già detto, si descrivono due piani paralleli che sono il piano della base e il piano dell'apice, che sono piani trasversali, il piano anteriore e il piano posteriore che sono piani frontali e poi due piani laterali, paralleli tra di loro, che si chiamano piani sagittali. Tra ogni coppia di piani, stiamo attenti a questa cosa, esiste un numero molto elevato di piani intermedi, sempre paralleli tra di loro. Giusto? Cioè, tra il piano laterale destro e il piano laterale sinistro, noi possiamo sezionare, possiamo fare un numero elevatissimo di piani, il cui numero dipenderà dallo spessore della fetta. Giusto? Se noi dobbiamo tagliare un salame di 10 centimetri, se noi facciamo un taglio a metà, quindi facciamo due pezzi dai 5 centimetri, oppure possiamo fare 10 pezzi da 10 fette da 1 centimetro, 20 fette da mezzo centimetro e così via. Giusto? Quindi, tra il piano destro e il piano sinistro abbiamo un certo numero di piani. Tra quello superiore e quello inferiore abbiamo un altro numero di piani che ovviamente, utilizzando lo stesso spessore, sarà maggiore perché la lunghezza è maggiore della larghezza. E poi tra il piano anteriore o frontale e il piano posteriore o dorsale abbiamo anche qua un certo numero di piani intermedi. Come si chiamano questi piani? Questi piani si chiamano, abbiamo detto, i piani intermedi tra il laterale a destra e il laterale a sinistra si chiamano sagittali. I piani intermedi tra quello craniale, superiore, e quello caudale o quello inferiore si chiamano piani trasversali. I piani intermedi tra quello anteriore e quello posteriore si chiamano piani frontali. Quando è stata scoperta 50 anni fa, è stata costruita 50 anni fa la prima TAC, si chiamava tomografia assiale computerizzata. Infatti si chiamava TAC. Che significa assiale? Significa che la macchina riusciva a elaborare con grandi difficoltà delle sezioni assiali o trasversali. quindi tagliava il nostro corpo che noi immaginiamo coricato su un lettino come se fosse un salame quindi a fettine dall'alto verso il basso. L'acquisizione delle immagini era un'acquisizione molto articolata e lunga considerate che per ogni sezione dell'encefalo ci volevano 5 minuti. Per fare un'attacca dell'encefalo ci volevano quindi per 20 sezioni circa 100 minuti quindi stiamo parlando di un'ora e 40 per fare un'attacca dell'encefalo. Nel 2022 non dico con una macchina da 512 strati ma una macchina normale di quelle che troviamo in tutti i pronto soccorso da 16 strati l'acquisizione dell'attacca dura meno di un minuto. Quindi in più che cosa è cambiato? Che mentre prima si acquisivano soltanto sezioni trasversali ora si acquisisce un volume per cui è possibile elettronicamente poi andare a fare delle ricostruzioni secondo tutti i piani e questo ovviamente ha fatto perdere l'A all'attacca ora non si dice più tac ma si dice tc tomografia computerizzata perché assiale si è perso come termine non è più questo il termine giusto quindi questi sono i piani trasversali poi abbiamo i piani frontali che vanno da quello che passa anteriormente al nostro corpo toccando la punta del naso a quello che passa posteriormente toccando la regione glutea e la nuca il terzo tipo di piani che sono quelli intermedi tra il piano laterale destra e il piano laterale sinistro presenta un piano che è particolarmente importante perché è quello che divide esattamente il nostro corpo in una metà destra e in una metà sinistra questo piano viene chiamato anche piano di simmetria perché il nostro corpo viene diviso in due metà che si chiamano antimeri antimero destro e antimero sinistro e questi antimeri sono specularmente uguali cioè sono uguali allo specchio in quanto sono diversi perché uno si estrinse capo sul lato l'altro si estrinse capo sul lato l'altro in più l'asimmetria del corpo umano che non è mai precisissima perché come voi sapete c'è sempre un altro dominante che è leggermente più forte e anche leggermente più ipertrofio non ci sono ci sono delle delle asimmetrie anche del volto con un orecchio più alto uno più basso per esempio non esistono nella quasi totalità delle persone c'è una delle donne c'è una leggerissima differenza nel volume delle mammelle per esempio anche se poi alla fine non nei casi non eclatanti non si nota nei casi invece eclatanti si nota perché se c'è una differenza sostanziale che supera il 20% giustamente la differenza si vede e così ci possono essere delle differenze che però diciamo nell'anatomia normale il concetto che avevamo descritto l'altra volta non vengono descritte in maniera particolare diversa invece è la il contenuto degli organi che noi abbiamo all'interno cioè se noi ci dividiamo il corpo umano di un vostro collega metà me lo prendo io e metà me lo prendete voi se io ho il lato destro avrò quasi tutto il fegato ma non avrò la milza per esempio avrò una parte del cuore mentre voi ne avrete una parte maggiore però avrò più volume di polmone perché voi ne avrete di meno in quanto la parte sinistra del cuore rende il polmone sinistro leggermente meno voluminoso e così via cioè ci saranno tutta una serie di differenze che all'interno sono eclatanti mentre all'esterno no noi parliamo quindi del fatto che il piano sagittale mediano o piano di simmetria costituisce il piano che divide il nostro corpo in due metà specularmente uguali per le forme esterne non per il contenuto vediamo vediamo cosa succede quando noi sezioniamo il nostro corpo umano utilizzando questi piani anatomici facciamo finta che noi questo manichino o questo corpo umano lo abbiamo sezionato secondo questo vetro che qua vedete in azzurro che corrisponde al piano di simmetria quello che ne viene fuori e con queste cose dovranno cominciare a familiarizzare i tecnici di radiologia in particolare ma i medici devono avere anche loro una buona conoscenza delle immagini quello che viene fuori è un soggetto che per esempio non ha negli arti superiori negli arti inferiori perché gli arti superiori non sono compresi nel taglio se io invece questo piano lo sposto all'altezza del capezzolo avrò non avrò più la testa ma avrò la parte più laterale del torace e poi avrò una divisione dell'arto superiore avrò una parte dell'arto inferiore scusate quindi sezione sagittale ecco che cosa si vede secondo il piano sagittale mediano se invece io utilizzo questo piano che vedete colorato in violetto questo mi dividerà il corpo umano in una metà anteriore e in una metà posteriore e questo piano viene chiamato piano frontale o coronale frontale o coronale esso mi dividerà il corpo umano in una metà anteriore e in una metà posteriore e questo è quello che io vedrò cioè in questo caso siccome il piano mi passa attraverso la testa attraverso le spalle attraverso gli arti superiori e inferiori considerando per esempio che gli arti superiori presentano una minima angolazione anteriore del in questo caso del del gomito ci sarà una rappresentazione non completa dell'osso del braccio che è l'omero e delle ossa dell'avambraccio che sono il radio e l'un questo ovviamente non c'è sempre una corrispondenza cioè non è che gli organi si trovano secondo i piani anatomici del parallelepipedo di Vallon però io me li posso andare a ricavare come voglio me li posso recuperare in altra maniera con le immagini di TAC e la stessa cosa vedete questo è un piano orizzontale trasversale vedete qui in verdino e vedete che in questo caso la sezione mi attraversa l'avambraccio e quindi mi fa vedere le due ossa dell'avambraccio il radio lateralmente l'ulna queste sono le strutture muscolari e siccome qua siamo a livello della pelvi mi farà vedere le ossa del bacino questi sono i muscoli glutei questi sono i muscoli paravertebrali questi sono i muscoli lopsos il quadrato dei lombi il muscolo della parete addominale e qua sono state rappresentate schematicamente le ansie del tenue e l'intestino grasso per farvi comprendere meglio quello di cui stavo parlando volevo farvi vedere cosa è possibile fare lo facciamo con con il corpo umano ecco un attimo solo di pazienza ecco allora interrompiamo un attimo la presentazione vi faccio vedere queste immagini allora questa è un attacco addominale in questa attacco addominale noi possiamo vedete attraverso questi cursori perpendicolari tra di loro possiamo andare a vedere qual è la situazione dei vari organi andando da dietro verso avanti vedete in questo caso la colonna vertebrale è un po' storta quindi cerchiamo di raddrizzarci e possiamo andare avanti e indietro secondo piani coronali ma anche secondo piani sagittali vedete è una cosa che possiamo fare intuitivamente possiamo fare immediatamente in diretta per il fatto che non abbiamo acquisito delle singole fette ma abbiamo acquisito dei volumi abbiamo la possibilità di fare anche altro un attimo di tempo che ve lo mostro e cioè possiamo andare a fare delle ricostruzioni tridimensionali del corpo umano e in questo caso siccome l'immagine è stata ottenuta dopo mezzo di contrasto vediamo vediamo che questa paziente a cui era stato tolto il rene destro ha un rene sinistro che vediamo nella sua porzione parenchimale e vediamo qua l'uretere che trasporta l'urina iodata verso la vescica che si trova a questa altezza vediamo bene le ossa vediamo bene il bacino le articolazioni eccetera eccetera abbiamo la possibilità di vedere tridimensionalmente quelle che sono le strutture anatomiche che stiamo visualizzando ma quello che a me interessava farvi notare se vi ritrovo perché vi ho perso spero di non aver chiuso tutto quello che mi premeva farvi vedere è la rappresentazione anatomica dei piani che ci permettono di dividere il nostro corpo umano ma soprattutto ci permettono perché lo scopo iniziale lo scopo del gioco era quello di individuare dei punti di riferimento per poter andare a descrivere il corpo umano e allora noi dividiamo le strutture anatomiche sicuramente in due categorie questo universalmente utilizzando il piano di simmetria quindi utilizzando il piano sagittale mediano in strutture che si trovano a destra e strutture che si trovano a sinistra e delle strutture che si trovano a destra noi possiamo descrivere delle strutture che sono più vicine al piano di simmetria e le strutture si trovano più lontane il torace si trova più vicino le coste che troviamo qua sotto si trovano più vicino al piano di simmetria rispetto all'arto superiore. E dell'arto superiore diciamo che il primo dito si trova più lontano rispetto al quinto dito, per questa posizione anatomica che noi abbiamo utilizzato. Tra i piani sagittali, il piano sagittale mediano rappresenta il piano di simmetria bilaterale. Questo permette di individuare nel corpo umano due antimodi, che sono l'emisoma a destra e a sinistra. Gli organi o le parti del corpo presenti in ambe due gli antimeri sono organi pari, per esempio i polmoni, ce n'è una a destra e una a sinistra, sono pari. Quelli presenti in uno dei due antimeri soltanto o sul piano sagittale mediano sono organi imperi. C'è una differenza. Nel primo caso, presenti in uno solo dei due antimeri, antimeri, la milza, per esempio, si trova a sinistra, quindi è un organo imperi. Il cuore si trova al centro ed è un organo imperi pure lui. Qual è la differenza tra i due? Che il cuore è imperi e mediano, cioè viene diviso in due dal piano di simmetria. Lo sterno è imperi e mediano. La colonna vertebrale è imperi e mediano, quindi le vertebrale sono imperi e mediano. Invece la milza è imperi, ma non è mediana, perché è posta lateralmente. Sulla base di questo noi possiamo andare a descrivere rispetto a questi piani che abbiamo visto. Rispetto ai piani che abbiamo visto possiamo andare a descrivere con una terminologia anatomica quello che si trova davanti e dietro rispetto a un piano frontale, quello che si trova a destra e a sinistra rispetto a un piano sagittale e quello che si trova in alto e in basso rispetto a un piano trasversale. Cosa voglio dire? Che, qui, piano frontale, piano sagittale, piano trasversale, rispetto al piano frontale o coronale, quindi rispetto a questo piano, io posso avere qualcosa che rispetto a un'altra è ventrale o dorsale, cioè la colonna vertebrale è dorsale rispetto allo sterno o alla mammella, viceversa la mammella è ventrale o anteriore rispetto alla colonna vertebrale. e quindi avrò questi termini anteriore e posteriore che possono anche essere declinati con altri termini, più aulici ma talvolta più precisi, come per esempio ventrale e dorsale, volare, palmare, rostrale sono tutti termini che servono per andare a descrivere un qualcosa che si trova anteriormente. Ovviamente non possiamo parlare di palmare nel caso della testa, nel caso della testa parleremo di rostrale, cioè una cosa è la bocca è rostrale rispetto alla nuca, mentre invece nella palma della mano diremo che i tendini flessori si trovano in posizione palmare rispetto alle ossa. Per quanto riguarda invece i termini di posizione posteriore, sono dorsale, nucale, per esempio nel caso della testa diremo e si trova in posizione nucale, per esempio il muscolo occipitale. Ab-orale significa lontano dalla bocca, quindi al contrario di rostrale, e quindi significa anche posteriore. Per quanto riguarda invece i termini di posizione rispetto al piano trasversale, sono superiore e inferiore, craniale e caudale, e questi sono termini che facilmente vengono compresi, ma c'è anche quest'altro termine, prossimale e distale, cioè quando noi ci troviamo sugli arti, la porzione più vicina alla radice si chiama prossimale, la porzione più lontana si chiama distale, quindi la spalla è prossimale rispetto alle dita. Ma considerate che questo termine prossimale e distale lo possiamo utilizzare anche nel caso della falange distale del quinto dito, in cui avremo, possiamo andare a descrivere un punto rispetto a un altro dicendo che è prossimale o distale. E quindi avremo superiore e inferiore, craniale e caudale, prossimale e distale, ma per esempio nel caso della pianta del piede distale corrisponde con plantare, che siamo in piedi in posizione anatomica. Rispetto al piano sagittale abbiamo esterno e interno, o laterale e mediale. Quindi il primo dito è laterale rispetto al quinto dito, l'arto superiore è laterale rispetto all'ombelico, l'ombelico è mediale rispetto all'arto. Ci siamo? Vi lascio con questa bellissima immagine che intanto, se avete voglia, potete consultare e ci vediamo fra una decina di minuti per la seconda parte della lezione. C'è qualcun altro che è arrivato in ritardo e che non ha avuto la presenza? No? Bene, ci vediamo dopo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. più in basso, a livello dei muscoli glutei, si chiamerà gluteale, la porzione che riguarda il femore, porzione prossimale dell'arto inferiore femorale, la rotula che si trova anteriormente al ginocchio, viene definita anche patella, quindi regione patellare, qualcosa che riguarda la gamba, da crus cruris, gamba, viene definita crurale, qualcosa che riguarda il polpaccio, quindi la rotondità che noi abbiamo posteriormente nella gamba, particolarmente sviluppata nei calciatori, prende il nome di surale, la porzione prossimale del piede, dove abbiamo l'articolazione con la gamba si chiamerà tarsale, qualcosa che riguarda il piede si chiamerà pedidia, per esempio l'arteria che è il rore del piede si chiama arteria pedidea, e poi la regione plantare del piede viene chiamata regione solea. A questo punto noi siamo pronti per un ulteriore step. Abbiamo visto il parallelepipolo di Mallon, abbiamo visto i piani intermedi tra il laterale, destra e sinistra, anteriore e posteriore, e craniale e caudale. Abbiamo visto la terminologia che ne scaturisce, destra, sinistra, laterale, mediale, craniale, caudale, prossimale, distale, anteriore e posteriore, eccetera, eccetera. A questo punto dobbiamo cominciare a ragionare in termini di movimento. E per fare questo dobbiamo individuare degli assi attorno a cui si compie un movimento. Cosa voglio dire? Nel momento in cui io fletto il mio gomito, questo è il mio gomito, lo sto flettendo, fletto, così fletto e così estendo. È come se questo gomito fosse incernierato, è come se ci fosse un chiodo, una cerniera a disposizione trasversale attorno a cui avviene un movimento di flessione ed estensione. Se voi avete davanti un tablet, la stessa cosa potete fare con il monitor del tablet, giusto? del PC portatico, volevo dire. Nel senso che potete chiuderlo e aprirlo. E la chiusura e l'apertura avviene attorno a una cerniera che troviamo, che possiamo definire l'asse attorno a cui avviene nel movimento. Ci siamo? Quindi dobbiamo verificare quali sono questi assi e soprattutto una cosa che capiremo è quello che quei tre piani di cui abbiamo parlato, sagittale, coronale o frontale e trasversale, possono intersecarsi tra di loro e dalla loro intersezione viene fuori l'asse di movimento. Quindi gli assi di movimento attorno a cui noi compiamo questi movimenti sono determinati dalla intersezione di quei tre piani fondamentali di cui abbiamo parlato, che sono sagittale, trasversale e coronale. Sono stato chiaro su questo finora? Quindi, se io vado a creare un'intersezione tra questo piano arancione, che si chiama piano sagittale mediano, e questo piano azzurro, che si chiama piano frontale, l'intersezione, cioè il punto in cui questi due piani si intersecano tra di loro. Guardate questa immagine. Sto intersecando questi due piani tra di loro. Nel punto in cui si uniscono, io con un pennarello, con una matita, posso andare a disegnare un'asse. Questo asse, se io me lo riporto, è disposto verticalmente. Ci siamo? Viene chiamato asse longitudinale o asse craniocaudale. Se io interseco il piano arancione con il piano verde, quindi piano sagittale con piano trasversale, questo è il piano trasversale, questo è il piano sagittale rispetto al mio corpo, posso andare a disegnare su questo foglio una linea disposta in senso antero-posteriore, che è l'asse sagittale o antero-posteriore, che mi riporto così, dall'avanti verso dietro. Alla fine, faccio l'ultima cosa che devo fare, prendo sempre il mio piano trasversale. E questa volta non lo interseco più con il piano sagittale, ma lo interseco con il piano trasversale. Vedete? A questo punto la linea che posso disegnare è una linea trasversale, che con la penna vi posso indicare così. Quindi, dall'intersezione dei piani sagittale e frontale viene fuori l'asse longitudinale. dall'intersezione dei piani sagittale e trasversale viene fuori l'asse antero-posteriore o sagittale. Dall'intersezione del piano trasversale con il piano coronale viene fuori l'asse trasversale. Questi assi dobbiamo pensarli come dei grossi chiodi, dei grossi perni, attorno a cui noi possiamo compiere i movimenti. Finora ci siamo? Noi finora abbiamo utilizzato il parallelepipedo di Vallon, abbiamo utilizzato l'organo, il corpo umano in posizione anatomica, ma quando il corpo invece è in movimento, non è più in posizione anatomica, che tipo di terminologia utilizziamo? Utilizziamo una terminologia che definisce l'orientamento dinamico delle parti del nostro corpo. Cioè, attraverso i piani e gli assi che abbiamo individuato poco fa, possiamo definire l'orientamento dinamico delle parti del nostro corpo. Noi possiamo dire se, per esempio, il mio gomito è in estensione o in flessione, e questo lo posso dire perché posso andare a determinare l'asse attorno a cui è avvenuto il movimento, ma vedremo che posso anche andare a individuare il piano su cui avviene questo movimento. Quindi, i termini di movimento quali sono? Noi possiamo compiere dei movimenti angolari e dei movimenti in asse. Ci sono dei movimenti in cui io mi muovo senza modificare l'angolo tra le porzioni che si muovono. Vi faccio un esempio. Sono all'impiedi, ruoto il piede all'esterno e all'interno, ma non si modifica l'angolo né tra il bacino e la coscia, né tra la coscia e la gamba, né tra la gamba e il piede. Questo tipo di movimenti prendono il nome di movimenti in asse. Vi faccio un esempio. Io mi trovo in questa posizione, posso determinare questi movimenti di pronazione e supinazione, che sono dei movimenti rotatori. Considerate che in questo momento non sono in posizione anatomica, ma questi movimenti rotatori non modificano l'asse tra i miei segmenti scheletrici. Se io invece fletto ed estendo il gomito, è fin troppo chiaro che sto modificando l'angolo tra i miei segmenti scheletrici. In questo caso parlerò di movimenti angolari. Sono quelli che vedete descritti qua. In questo caso il nostro soggetto sta ruotando l'arto, sta determinando dei movimenti che si chiamano di pronazione, quando il palmo della mano si rivolge verso dietro, o di supinazione quando è rivolto verso avanti. Nel secondo caso invece avrò l'avambraccio che si avvicina al braccio e addirittura la mano che si avvicina all'avambraccio. Quindi avrò dei movimenti di flessione in questa direzione, estensione in questa direzione, e quindi modificherò l'angolo che prima era questo. Quali sono i movimenti angolari e quali sono i movimenti assiali? I movimenti angolari sono il movimento di flessione e di estensione, i movimenti di adduzione e abduzione. Qua c'è un'ulteriore piccola complicazione rispetto a quello che ci siamo detti un attimo fa, perché noi poco fa abbiamo detto che il movimento di flessione e estensione avviene sull'asse trasversale, che abbiamo detto si costituisce per intersezione del piano frontale o coronale con il piano trasversale. Qua però abbiamo un'ulteriore cosa da ricordare. Dove avviene il movimento? Su quale piano avviene il movimento? E allora io mi trovo in questa posizione, in posizione anatomica, compio il movimento di flessione ed estensione, questo movimento avviene su un asse, su un piano sagittale. Quindi voi immaginate che io sia dentro la scatola il parallelepipo di pallone e la mia mano, il mio avambraccio, sfiora il lato destro della scatola. Quindi mi trovo su un piano sagittale. Nel caso invece in cui io compio un movimento sull'asse anteroposteriore o sagittale, quindi compio un movimento a livello della spalla mettendo un chiodo che mi entra da davanti e va verso dietro. Attraverso questo chiodo io compirò dei movimenti di abduzione e adduzione. Questi movimenti avvengono su quale piano? Immaginate che io in questo momento stia sfregando la mia mano verso in direzione del piano che si trova dietro nel parallelepipo di pallone. Quindi su un piano frontale. Ci siamo? Potete provare a fare queste cose poggiandovi su un muro. Quindi se voi siete poggiati all'impiede, poggiati sul muro in posizione anatomica e fate questi movimenti di abduzione e adduzione questi movimenti avverranno sfregando sul muro. Il muro rispetto a voi costituisce il piano posteriore e quindi rispetto a voi il muro rappresenta il piano frontale. Quindi sul piano sagittale compio movimenti di flessione e estensione che sono anche questi. Sul piano frontale o coronale compio i movimenti di abduzione e adduzione. Esiste poi un altro movimento angolare che è la somma di questi quattro movimenti che è il movimento di flessione abduzione estensione e adduzione. Praticamente disegno io un cono che ha come apice la mia spalla e questo movimento prende il nome di circunduzione. Questo è un movimento complesso che comunque è dato dalla sommatoria dei movimenti che vi ho descritto prima. Movimenti angolari. questo è il movimento di circunduzione che vedete qua. Abbiamo detto la somma di quei quattro e poi per ultimo abbiamo movimento in asse movimento in asse avviene sull'asse longitudinale ovviamente che si realizza per intersezione dei piani sagittari e coronale ma su un piano trasversale cioè nel momento in cui come vi avevo invitato prima voi andrete a ruotare il piede sul pavimento questa rotazione del piede sul movimento sul pavimento farà sì che voi state muovendo state utilizzando come piano uno dei piani trasversali il piano più basso che c'è e quindi il movimento in asse avviene sul piano orizzontale che è uno dei piani trasversali ci siamo fino a qua movimenti in asse movimenti in angolare questo movimento in asse è l'asse che noi stiamo utilizzando è l'asse trasversale il piano che stiamo utilizzando è il piano trasversale i piani costituiscono anche delle superfici di sezione del corpo umano e delle sue parti e come abbiamo visto prima ci permettono di studiare attraverso le superfici di sezione ci permettono di studiare le singole parti del nostro corpo abbiamo visto poco fa in quella ricostruzione TAC come noi possiamo vedere e studiare il corpo e gli organi secondo un piano trasversale quindi dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso da destra verso sinistra con il piano saggettale o dall'avanti verso dietro secondo un piano frontale o coronale questo ci aiuta molto nella visualizzazione per esempio tridimensionale nel caso di fratture particolarmente complicate e così come ci aiuta poi come abbiamo visto la ricostruzione tridimensionale ma questa suddivisione in piani e il fatto che i piani siano perfettamente ortogonali rispetto al piano di simmetria o possano essere per esempio obliqui rispetto al parallelo di valore o possono essere obliqui può andare a determinare del cioè può andare a diciamo complicare quella che è la visualizzazione è la maniera di rappresentarsi di un organo rispetto a quella che è la realtà cosa voglio dire questo è il nostro sistema nervoso centrale costituito dall'encefora e dal midollo spinale e questo è il midollo spinale se noi il midollo spinale lo sezioniamo trasversalmente rispetto al midollo quindi perpendicolarmente rispetto all'asse del midollo abbiamo questa immagine che è l'immagine del midollo spinale sezionato trasversalmente ma se per caso invece di sezionarlo trasversalmente io lo seziono obliquamente la forma che assume è una forma obliqua è la stessa cosa che utilizzando diciamo un paragone che con il sistema nervoso centrale è abbastanza irriverente quando noi tagliamo il salamino se noi tagliamo il salame perpendicolarmente alla sua lunghezza abbiamo delle fette rotonde se noi lo tagliamo obliquamente avremo delle fette ovali ci siamo? e questo è quello che avviene quando parliamo di strutture cilindriche piene per esempio in questo caso andiamo a sezionare così manco sembra che stiamo parlando di un bidon ma se noi abbiamo una struttura cilindrica tipo un vaso e lo andiamo a sezionare trasversalmente vedremo un cerchio se lo sezioniamo obliquamente vedremo un ovale e se lo sezioniamo longitudinalmente che cosa vediamo? vediamo che se la sezione avviene esattamente al centro vedremo due strisce perché ovviamente non vediamo né questo né questo man mano che ci spostiamo verso la parete del vaso queste strisce si avvicineranno tra di loro fino a diventare un unicum perché siamo sulla parete del vaso questo è un concetto molto importante da conoscere soprattutto per i tecnici di radiologia perché la deformazione geometrica che noi abbiamo determinata da un da una erronea angolazione del del piano di ricostruzione può andare a inficiare e a darci delle informazioni sbagliate ora vi metto un attimo un esame TC della testa dell'encefalo vediamo se troviamo uno piuttosto giovane ecco ecco togliamo i riferimenti non capisco perché non si apre però forse l'ho capito eccolo ricambio di condividiamo questo ecco allora questo è un attacco encefalo nella attacco encefalo noi abbiamo necessità di avere una certa simmetria e vediamo per esempio che queste sono le cavità nebrassiali che si chiamano ventricoli laterali ci accorgiamo che da questo lato questo ventricolo è più ampio rispetto a questo e allora cosa pensiamo di fare andiamo a vedere in realtà in 3D che cosa è successo e ci rendiamo conto che la paziente si era un pochettino spostata per cui vedete se noi facciamo una sezione esattamente perpendicolare sagittale e perpendicolare rispetto al piano sagittale vediamo che questa problematica non appare più rappresentata non si vede più la stessa cosa riguarda la angolazione del piano l'angolazione del piano mi determina una guardate cosa succede in questa immagine in basso a sinistra nel momento in cui cambio l'inclinazione secondo se il piano trasversale è perfettamente perpendicolare rispetto al parallelo dei ballon e che cosa succederà all'immagine dell'encefalo che vedete qua in basso e che vi ingrandisco un poco man mano che io angolo là il piano fino ad arrivare a un punto in cui questo piano non sarà più trasversale ma diventerà un piano coronale vedete vedete come la la forma della testa modifichi notevolmente la sua le sue dimensioni e soprattutto c'è una rappresentazione diversa delle strutture se io angolo invece sbaglio il piano coronale avrò una immagine di una testa completamente storta e questo mi potrà dare una falsa immagine come se qua ci fosse qualcosa che mi rende asimmetrico il mio crano altra cosa però è sempre l'immagine ferma non la vedete più perché sto cambiando immagine ecco ora la vedete sì sì ora ecco per esempio in questo caso io ho una asimmetria delle ossa temporali e da questo lato vedrò la membrana del timpano da questo lato no ma perché perché non c'è no perché è messa storta infatti se poi me la vado a cercare me la troverò un pochettino più in basso a questa altezza anche se non si vede bene per un problema di finestra quindi è molto importante la conoscenza del piano che si sta utilizzando per la valutazione delle immagini che noi stiamo guardando altrimenti abbiamo delle immagini falsate ritorniamo alla nostra presentazione altra cosa che ci interessa è qual è la conformazione delle superfici esterne del nostro corpo perché sulla superficie esterna del nostro corpo la presenza di solchi di pieghe di depressioni di rilievi permette di individuare dei punti che vengono definiti punti di repere punti di repere vi faccio un esempio paziente cade fa una radiografia del gomito vedo una frattura vado a toccarla e la vado a toccare perché so esattamente quel punto a che cosa corrisponde sulla superficie del nostro corpo ci siamo se io ho una frattura dell'olecrano che è a questa altezza se voglio andare a vedere clinicamente che cosa c'è non gli toccherò nel polso nella spalla vado esattamente dove c'è l'olecrano perché so che c'è un rilievo a questo livello intanto come è suddiviso il corpo umano il corpo umano è suddiviso in busto e arti il busto è tutta questa porzione che vediamo qua che prevede la testa il collo e il tronco il tronco corrisponde al torace e all'addome poi abbiamo l'arto superiore e l'arto inferiore ciascuna di queste parti viene a sua volta suddivisa in parti di minore estensione che tuttavia sono facilmente delimitabili attraverso chiari e ben definibili punti di riferimento io mi trovo di fronte a me un soggetto in cui devo andare a recuperare la posizione devo descrivere qualcosa devo andare a visitare qualcosa che riguarda il suo arto superiore e per esempio ho necessità di capire dove finisce il braccio e comincia l'avambraccio e per fare questo sulla superficie anteriore utilizzerò la piega del gomito che è una struttura che c'è in tutti i soggetti questa piega del gomito è un punto di repere se io devo andare a visualizzare un rilievo che si trova sulla superficie anteriore della fronte al di sopra è la radice del naso e che si chiama glabella lo toccherò facilmente perché al di sotto delle dita si sente questo rilievo la stessa cosa posteriormente ci sarà un vi invito questa la potete toccare pure voi senza nessun problema la trovate subito si chiama protuberanza occipitale esterna si trova posteriormente a livello della testa dell'occipitale ovviamente attraverso questo noi andremo a descrivere delle strutture anatomiche più piccole quindi nell'ambito della testa distingueremo il cranio e la faccia soprattutto questo lo possiamo fare mettendo il soggetto guardando il soggetto lateralmente perché noi non dobbiamo guardare tutto soltanto dal davanti dobbiamo essere curiosi guardare tutto da dietro da davanti di lato dall'altro lato di sopra di sotto e attraverso questo avremo la possibilità di evidenziare ulteriori rilievi quando studieremo il cranio fra qualche lezione vi dirò che stiamo utilizzando delle visuali che si chiamano norme io vedrò il cranio in norma anteriore in norma posteriore in norma laterale in norma inferiore e ogni volta che io cambierò la visuale vedrò delle cose nuove e non ne vedrò alcune che invece vedevo prima nel caso dell'arto superiore per esempio abbiamo una distinzione tra braccio ginocchio avambraccio e mano nella mano per esempio queste sono le palme e le mani nell'arto inferiore vedremo la coscia il ginocchio la gamba la caviglia il piede e nell'ambito del gusto troveremo oltre alla testa e alla faccia la regione del collo la regione del torace la regione dell'addome che prevederà al centro abbiamo detto la cicatrice umbilicale e la regione pubblica che è questa regione che abbiamo anteriormente ai due lati troveremo le due regioni inguinali regioni inguinali e vi lascio queste immagini in cui ovviamente troverete ciascuna di queste porzioni del nostro corpo ma anche contemporaneamente quelle che sono gli aggettivi i termini anatomici che possono essere utilizzati se io devo descrivere qualcosa che riguarda l'ascella dirò ascellare qualcosa che riguarda il mento dirò mentale ma siccome mentale può essere confuso con qualcosa che riguarda la mente è meglio dire mentoniera infatti nella mandibola io non la definisco sinfisi mentale il punto di giunzione tra il lato destro e il lato sinistro ma la definisco sintesi mentoniera così sono sicuro che non abbiate dubbio qualcosa che riguarda la parte anteriore della faccia viene chiamata facciale riguarda la guancia buccale non si dice guanciale guanciale si riferisce a un ingrediente della matriciana per quanto riguarda l'orecchio parleremo di auricolare per quanto riguarda l'occhio parleremo di orbitale nel torace descriveremo varie strutture ci sono le strutture diciamo nella donna della ghiandola mammaria nell'uomo troveremo i muscoli pettorali che sono più superficiali quindi parleremo di regione pettorale parleremo di regione addominale ombelicale inguinale pubbica femorale cioè per ognuno c'è un aggettivo ma anche più di uno per esempio siccome la rotola si chiama anche patella un legamento all'area del patellare è un legamento all'area rotulio è la stessa cosa si utilizza un termine piuttosto che un altro indifferentemente posteriormente avremo sempre la regione della testa la regione del collo la regione del dorso questa volta ma per esempio a questo livello abbiamo un osso triangolare importante che si chiama scapola e parleremo di regione scapolare in questo caso la regione posteriore del gomito come vi dicevo prima si chiama olecrano quindi regione olecranica regione posteriore che corrisponde all'addome regione lombare regione che corrisponde ai glutei si chiama regione glutea regione posteriore al ginocchio si chiama poplitea la cavità che troviamo nella porzione posteriore al ginocchio che spende il nome di cavo popliteo e poi abbiamo detto surale che è relativa al polpaccio calcaneare per esempio che è relativa al calcaneo plantare relativa alla pianta del piede e questo è quello che riguarda le forme esterne ma ora abbiamo un tra virgolette ulteriore complicazione che ci riguarda ed è quello che troviamo all'interno del nostro corpo all'interno del nostro corpo abbiamo una suddivisione in due grandi macrocavità che non comunicano tra di loro e che sono la cavità dorsale che è questa disegnata in arancione più scuro che corrisponde alla cavità neurale cioè corrisponde a quella struttura cava all'interno della quale noi custodiamo il sistema nervoso centrale costituito dall'encefalo e dal mitogoschino poi abbiamo un'altra cavità che è la cavità dei visceri quindi non del sistema nervoso ma degli altri visceri che si trovano racchiuse all'interno della cavità toracica addominale e pelvica che prende il nome di cavità ventrale o cavità splancnica cavità ventrale o cavità splancnica la cavità dorsale o neurale per ora l'accantoniamo occupiamoci della cavità ventrale o splancnica quindi tutta questa cavità che vedete in marroncino questa cavità poi vedete che c'è questa linea bianca nel disegno che è descritta come diaframma che cos'è su diaframma? diaframma è un muscolo pargo che separa fisicamente all'interno della cavità ventrale il torace dall'addome ed è un importante muscolo oltre ad avere questa funzione è un importante muscolo della respirazione il diaframma deve separare la cavità toracica e la cavità addominale se per un motivo qualsiasi il diaframma o non c'è o per esempio si sviluppa male per cui non c'è questa separazione tra gli organi addominali e gli organi toracici gli organi addominali tendono a risalire verso il torace e questa malformazione può anche essere incompatibile con la vita recentemente c'è stato un caso che è stato riportato parlo di Palermo un caso che è stato riportato alla stampa e che riguarda il caso di una bambina che nel corso della gravidanza della mamma era stata vista da un ecografista il quale non si era accorto del fatto che questa bambina avesse una enorme ernia diaframmatica per cui i viscere addominali erano entrati all'interno della gravità toracica ed è stato condannato perché se questa cosa fosse stata evidenziata durante la gravidanza sarebbe stato possibile andare a creare un andare a riparare con un intervento chirurgico il diaframma e quindi possibilmente la bambina sarebbe come hanno scritto i periti con buona probabilità sarebbe sopravvissuta quindi non è per raccontarvi la storia giudiziaria ma per dirvi che il diaframma è molto importante e questa è una sezione coronale quindi una sezione frontale secondo un piano intermedio che va da quello anteriore a quello posteriore in cui sono stati tolti tutti i visceri e noi quindi vediamo la cavità del busto la cavità ventrale con ovviamente è disegnato questo con il disegno della silhouette del diaframma e quindi con la possibilità di descrivere all'interno di questa cavità del tronco tre porzioni la porzione più alta che si chiama cavità toracica la possiamo definire anche rispetto alla cavità ventrale con un altro termine prossimale perché più si può dire che la cavità toracica rispetto alla cavità addominale è superiore prossimale craniale giusto cominciamo a utilizzare questi termini perché poi li dobbiamo utilizzare anche noi quando dobbiamo fare le descrizioni se per esempio dobbiamo descrivere il diaframma e dobbiamo descrivere questa superficie che va verso l'alto che guarda verso l'alto e questa superficie che guarda verso il basso parleremo di superficie toracica o di superficie addominale che siamo questi termini che io vi ho insegnati non sono ingessati e non li potete utilizzare li dovete utilizzare tutte le volte che andate a fare una descrizione anatomica e soprattutto li dovrete utilizzare agli esami quindi mi auguro che li frequentiate con assiduità al di sotto della cavità toracica abbiamo la cavità addominale che è suddivisa in una porzione superiore maggioritaria e in una porzione inferiore minoritaria senza una separazione fisica le due cavità si continuano l'una nell'altra che sono la cavità addominale e la cavità pelvica nell'ambito di queste cavità di cui abbiamo descritto nell'ambito della cavità toracica noi avremo poi un'ulteriore suddivisione abbiamo le due cavità pleuriche destra e sinistra dove troviamo i polmoni poi abbiamo uno spazio all'interno al centro che si chiama mediastino nell'ambito del mediastino dove abbiamo la trachea l'esofago grossivasi l'infonodi e tutto quello che volete voi in basso e anteriormente troviamo un'altra cavità che si chiama cavità pericardica dove troveremo il cuore quindi nel torace abbiamo tre cavità una pari che sono le due cavità pleuriche quindi una e due due pari e una impari e mediana che è la cavità pericardica nell'ambito della cavità addominopelvica abbiamo la cavità addominale come abbiamo detto e la cavità pelvica in basso nella cavità addominale abbiamo il fegato la milza il pancreas e poi diciamo in termini un po' impropri perché abbiamo la suddivisione in organi inter-est peritoneale avete fatto la prima lezione? No voi no voi siete di primo anno niente troveremo nella cavità addominale degli organi che sono all'interno e peritoneale altri che sono dietro ma per esempio nella cavità addominale abbiamo anche in senso lato anche i reni e i surreni mentre nella cavità pelvica avremo la vescica e poi avremo gli organi riproduttivi in più abbiamo l'ultima porzione dell'intestino retto che deve attraversare la pelvi per aprirsi nella cavità anale nel canale anale vedendo la stessa immagine lateralmente vediamo quindi la cavità toracica con le due cavità pleuriche viste in sommazione e al centro per vedere la posizione quella che è la cavità pleurica in basso abbiamo la cavità addominale e con un azzurro più scuro la cavità pellica a questo punto resta da considerare la suddivisione della parete addominale inquadranti ma questa preferisco farvela la prossima volta perché già vi vedo abbastanza bolliti e persi con sguardo perso nel vuoto quindi se non ci sono altre domande ci vediamo poi la prossima volta se non ci sono domande non altre domande va bene allora alla prossima volta arrivederci ragazzi buon'ostra buon'ostra grazie Grazie a tutti